Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Oggi che è il 9 di febbraio, mercoledì, noi siamo qui per leggere la parola, stiamo andando verso la conclusione del libro dei Proverbi e quest'oggi noi leggeremo ancora altri due capitoli, capitolo 27 e 28 del libro dei Proverbi. La parola di Dio dice, Proverbi capitolo 27, Come l'uccello che va peregrinando lontano dal nido, così è l'uomo che va peregrinando lontano da casa. L'olio e il profumo rallegrano il cuore, così fa la dolcezza di un amico con i suoi consigli cordiali. Non abbandonare il tuo amico né l'amico di tuo padre e non andare in casa del tuo fratello nel giorno della tua sventura. Una persona a te vicina vale più di un fratello lontano. Figlio mio, si saggio e rallegrami il cuore, così potrò rispondere a chi mi offende. L'uomo a corto vede il male e si mette al riparo, ma gli ingenui proseguono e ne pagano le conseguenze. Prendi il vestito, poiché ha fatto cauzione per gli altri. Fatti dare dei pegni, poiché si è reso garante dei stranieri. Chi benedice il prossimo ad alta voce di buon mattino sarà considerato come se lo maledicesse. Un gocciolare continuo in un giorno di gran pioggia e una donna risosa sono cose che si somigliano. Chi la vuol trattenere vuole trattenere il vento e stringere l'olio nella sua destra. Il ferro forbisce il ferro, così un uomo ne forbisce un altro. Chi ha cura del fico ne mangerà il frutto e chi veglia sul suo padrone sarà onorato. Come il viso si riflette nell'acqua, così il cuore dell'uomo si riflette nell'uomo. Il soggiorno dei morti e l'abisso sono insaziabili e insaziabili sono gli occhi degli uomini. Il crogiolo è per l'argento e il fornello per l'oro e l'uomo è provato dalla bocca di chi lo loda. Anche se tu lo pestassi lo stolto in un mortaio, il mezzo al grano con il pestello, la sua follia, non lo lascerebbe. Guarda di conoscere bene lo stato delle tue pecore, abbi gran cura delle tue mandrie. Perché le ricchezze non durano sempre, neanche una corona dura di epoca in epoca. Quando è tolto il fieno, subito rispunta l'erbetta fresca e le erbe dei monti sono raccolte. Gli agnelli ti danno la da vestire, i becchi di chi comprarti un campo, e il latte delle capre basta a nutrire te, a nutrire la tua famiglia e far vivere le tue serve. Proverbi capitolo 28 L'empio fugge senza che nessuno lo perseguiti, ma il giusto se ne sta sicuro come un leone. Quando un paese è pieno di misfatti, sono numerosi i suoi capi, ma con un uomo intelligente e pratico delle cose l'ordine è dura. Un povero che opprime i miseri è come una pioggia che devasta e non dà pane. Quelli che abbandonano la legge lodano gli empi, ma quelli che osservano lo servano fanno loro la guerra. Gli uomini malvagi non comprendono ciò che è giusto, ma quelli che cercano il Signore comprendono ogni cosa. Meglio il povero che cammina nella sua integrità, che il perverso che cammina nella doppiezza ed è ricco. Chi osserva la legge è un figlio intelligente, ma il compagno dei golosi fa vergogna a suo padre. Chi accresce i suoi beni con gli interessi e l'usura li accumula per colui che ha pietà dei poveri. Se uno volge altrove gli orecchi per non udire la legge, la sua stessa preghiera è un abominio. Chi spinge i giusti a percorrere una via sbagliata cadrà egli stesso nella fossa che ha scavata, ma gli uomini integri erediteranno il bene. Il ricco si ritiene saggio, ma il povero che è intelligente lo scruta. Quando i giusti trionfano la gloria è grande, ma quando gli empi si innalzano la gente si nasconde. Chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi li confesse le abbandona otterrà misericordia. Beato, beato l'uomo che è sempre timoroso, ma chi indurisce il suo cuore cadrà nella sfortuna. Un empio che domina su un popolo povero è un leone ruggente, un orso affammato. Il principe senza prudenza fa molte istorzioni, ma chi odia il guadagno disonesto prolunga i suoi giorni. L'uomo su cui pesa un omicidio fuggirà sino alla fossa, nessuno lo fermi. Chi cammina da integro sarà salvato, ma il perverso che percorre vie tortuose cadrà all'improvviso. Chi lavora la sua terra avrà pane in abbondanza, ma chi va dietro ai fanuloni avrà abbondanza di miseria. L'uomo fedele sarà colmato di benedizioni, ma chi ha fretta di arricchire non rimarrà impunito. Avere dei riguardi personali non è bene per un pezzo di pane. L'uomo talvolta diventa colpevole. L'uomo invidioso ha fretta di arricchire e non sa che gli piomberà addosso la miseria. L'uomo che corregge sarà alla fine più accetto di chi si lusinga con la sua lingua. Chi ruba a suo padre e a sua madre e dice non è un delitto, è compagno del dissipatore. Chi ha l'animo avido fa nascere contese, ma chi confida nel Signore sarà saziato. Chi confida nel proprio cuore è uno stolto, ma chi cammina da saggio e scamperà. Chi dona al povero non sarà mai nel bisogno, ma colui che chiude gli occhi sarà coperto di maledizioni. Quando gli empi si innalzano la gente si nasconde, ma quando periscono si moltiplicano i giusti. Parola del nostro Signore. Allora noi abbiamo letto ancora altri due capitoli, il libro dei Proverbi, un libro estremamente attuale, Proverbi antichi per una vita moderna sicuramente. E io prego che questa parola rimanga nel tuo cuore, nel mio cuore, per guidare, per darci timore di Dio, saggezza e una vita benedetta. Questo è Leggemo la Bibbia insieme, tutti i giorni, da lunedì al venerdì a mesogiorno, nel nome di Gesù. Grazie a tutti. Grazie a tutti.